Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Proprio nell'anno dello scandalo ad affari tuoi, Insinna viene chiamato alla conduzione dell'eredità, subentrando a Carlo Conti. Ancora una volta il noto conduttore si mostra perfettamente a suo agio in questi panni e, sotto la sua guida, il noto game show della Rai continua a riscuotere un notevole successo. Tuttavia in queste ore sembra essere arrivata una pessima notizia per i fan di Flavio Insinna. Sono settimane di grandi cambiamenti nel mondo Rai, dove i vertici dell'emittente di Stato stanno programmando i palinsesti in vista della prossima stagione televisiva. L'indiscrezione era nell'aria già da tempo e alla fine, ciò che Pia temevano i suoi fan, starebbe per materializzarsi. Spunta l'ipotesi di un clamoroso cambio di conduzione al programma l'eredità. A prendere il posto del noto conduttore dovrebbe essere Pino Insegno, da tempo dato da favorito per rientrare in Rai. Ma non è tutto, perché all'attore romano potrebbe essere affidata la conduzione, insieme ad Enrico Brigano, per la conduzione di serate one shoot. Lo scorso anno Flavio Insinna aveva estasiato i suoi fan ritornando nel cast di Don Matteo XIII, sempre nel suo celebre ruolo di Flavio Anceschi. Peccato, però, che non potranno più rivederlo alla conduzione del noto game show di Rai 1.